In questo momento noi abbiamo delle chiare proposte, ovviamente il patto di crescita e stabilità va assolutamente tenuto ancora, va prorogata la sospensione, ma quel che è più importante va rivisto, deve diventare, l'ho detto più volte, un patto di crescita nella stabilità, anzi aggiungo di crescita economica, di sviluppo sociale nella stabilità. La BCE deve ovviamente intervenire, come sta già programmando di fare, perché deve prorogare quei programmi di acquisto dei titoli di Stato, dobbiamo a tutti i livelli, anche la regola del 3% va rivista, quella regola è una regola con quell'output gap incomprensibile e macchinoso, non è più adeguata ai tempi, dobbiamo far tesoro, qui non si tratta solo di emergenze, ovviamente stiamo affrontando delle gravissime emergenze, dopo due anni di pandemia, adesso con l'emergenza energetica, ma dobbiamo far tesoro anche di quelle che sono politiche economiche e sociali virtuose. Il tempo dell'austerità, indipendentemente dall'emergenza, è un tempo sbagliato, lo dobbiamo accantonare. Grazie.